Ciao a tutti eccoci qua per un'altra storia del denaro ormai abbiamo deciso di percorrerla tutta quanta nel 1775 il congresso continentale degli Stati Uniti decreta la nascita del dollaro statunitense oggi moneta più diffusa al mondo in assoluto ma pensate che anche se l'indipendenza degli Stati Uniti d'America è avvenuta lì attorno la prima banconota e la prima moneta furono cognate nel 1795 ben un bel po' di anni dopo l'indipendenza nuova curiosità sul mondo del denaro ci vediamo domani per la prossima ciao a tutti